Ciao ragazzi, sono Matteo Mancuso e vi aspetto il giorno 28 gennaio a San Giorgio a Cremalo, vicino Napoli, per una super master class in collaborazione con l'MMI, dove ci sarà l'occasione di sentirmi dal vivo, pormi domande e soprattutto suonare insieme perché è previsto una jam, quindi vi aspetto numerosi con chitarra in mano e ci vediamo lì, ciao!